Decorare i vestiti di Elisa Cavalletti è una mia passione. Chiaramente prendo ispirazione dalla mia arte grafica, preparo le pitture e poi mentre creo un vestito appoggio in un secondo momento un decoro, quindi una pittura a mano. Il primo abito viene pitturato direttamente con la mia mano e quindi anche con il mio amore per l'arte grafica e poi ho tante persone che insieme a me dedicano la loro passione per la pittura per decorare a mano ogni singolo abito di Elisa Cavalletti che noi poi inviamo a tutte le nostre nuove. In questo caso ho voluto darvi l'opportunità di fare la vostra scelta, quindi di poter scegliere l'abito romantico con dei decori di pizzo, con dei tessuti molto leggeri, bianchi, adatti per l'estate, in modo puro, essenziale e altrimenti potete sceglierlo decorato con questo tratto grafico. La stessa cosa vale per il vostro top, quindi a voi la scelta e potete se volete anche scegliere un abito senza decoro e poi mettere in atto la vostra creatività e la vostra arte prendendo colori per tessuti adatti e quindi fare del vestito di Elisa Cavalletti un insieme con la vostra arte così ognuno di noi diventa artista del proprio abito.